Sinfonia a tre voci è il titolo dell'evento tenutosi lo scorso primo marzo al circolo nautico di Torre del Greco nel corso del quale è stato presentato l'omonimo libro della filosofa e scrittrice Esther Basile Sinfonia a tre voci Dacia Maraini Elsa Morante Anna Maria Ortese giornalista e presidente della consulta regionale femminile della Campania per le pari opportunità Esther Basile è anche collaboratrice dell'istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli una serata culturale a 360 gradi come dichiarato ai nostri microfono fortemente abbiamo voluto che ci fosse questo gruppo che è costituito in realtà da professionisti degli studi filosofici di Napoli Sinfonia a tre voci quindi abbiamo la Morante abbiamo la Dacia Maraini e la Ortese stanno un po' testimoniando quello che hanno lasciato queste tre grandi donne conoscendole ho fatto sì che loro venissero come sono venute del resto anche l'anno scorso questo gruppo l'anno scorso parlando dei suoi contenuti della pace invece questa volta abbiamo voluto fare culture con i contenuti riferiti alle tre grandi donne nostre italiane il circolo nautico di Torre del Greco diventa sempre più un polo di attrazione culturale in modo particolare diventa un punto di riferimento della cultura in provincia di Napoli oggi direttamente da Napoli la fondazione Thesis tentiamo perché l'impegno è tanto però diciamo poi insomma si vede che si raccoglie anche tantissimo come lei ha detto è fondamentale che il circolo non faccia solo attività di sport di diletto ma fondamentalmente anche di cultura deve essere un momento un punto di grande riferimento per la città di Torre del Greco noi facciamo tanto per il territorio e vogliamo che la popolazione poi apprezzi la cultura è insomma è uno dei pilastri del vivere bene tante le attività che si fanno al circolo ovviamente uno dei circoli di più antica memoria di tutta la costa vesuviana quali saranno le prossime attività, le prossime manifestazioni oltre a quelle sportive anche quelle culturali l'11 aprile apriamo la giornata del mare e della cultura marina il circolo è protagonista in quanto io sono anche il presidente dell'associazione circoli nautici della Campania un'associazione riconosciuta dalla regione Campania con una legge apposita e l'11 aprile festeggia in pratica il mare il mare visto a 360 gradi, il mare da proteggere e questa attività si farà con precisione al Molo Acton a Napoli a base della marina militare accoglierà gli studenti di tutta la campania il circolo è uno degli attori di questa organizzazione insieme alla Guardia Costiera e alla Marina Militare Grazie Grazie